E... bella a tutti ragazzi, sono Luke e siamo qui in questo decimo giorno di quarantena a portarvi Doom Eternal perchè non portare demoni, il distruttore di demoni in questa situazione veramente demoniaca Partiamo, è la prima volta ragazzi che premo il gioca, non ho ancora mai aperto Va bene, campagna, 3, 2, 1, via Ah, pensavo Allora, troppo giovane per morire, fatti minimale, ultra violenza, incubo, modalità incubo E di fare ultra violenza perchè è una via di mezza secondo me Proviamo Conoscendo i Doom come Doom il precedente Ultra violenza sarà molto complicato per me Non gioco da tanto tempo a un Doom, ma tanto tempo ragazzi Ora è tutto buio Quindi non mi si vede niente Mi avvicino Madonna Tutto il male che l'inferno può evocare Tutta la crudeltà che l'umanità può produrre Abbiamo deciso che manderemo Soltanto te Falli a pezzi Finché non sarà finita Massimo no Pazza Ultra incubo Com'è l'audio? Bello E' bellissimo Bellissimo Vi tengo la faccia? Vi tengo la faccia o metto solo il gioco? Il segnale del sacerdote All'incirca il 60% del pianeta è stato consumato dagli invasori Il segnale del sacerdote è agganciato Indico il bersaglio Ma il segnale non leggerà a loro Perché è lui quello che temono Non l'uomo O i suoi eserci Mamma mia ragazzi Quanto è bello L'ho aspettato un bot Diciamo Così Madonna quanti tasti che ci sono Allora tab Mappa Arsenale Codex E sfide Questo è Ok Il pugnetto Con la Q cambio armi E giro così Perfetto E il pugnetto R ricarico In questo salto In questo le faccio vedere Ok Sembra tutto a posto Ah ok È il tutorial Praticamente Ma quanti centi c'è? Ok nel tutorial Prende danni no Prende danni no Prende danni no Motosega Vabbè Ok Poi è Altissimo Vabbè Quanti tasti c'è dashboard No Quanti tasti c'è da Fuoco automatico 100% Percivalo il nostro corso gratuito Grazie a tutti. 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 Tantissimo. Ma pochissime munizioni in giro. Troppo poche. Come cazzo faccio? Qui vabbè è il glitchatore, vabbè. Non riesco a salire ovunque. Mi chiamano lo scalatore. Ma... Ho capito. Eh sì, ma devo mettere la bomba adesiva per questo. Ok. Wow, ma è andata un'energia. Ma stiamo scherzando? Ma quanto toglie? Vedo che ho messo... Vedo che ho messo ultraviolenza, ma minchia. Vedo che ho messo ultraviolenza, ma minchia. Quello lì mi ha rotto il cazzo, eh. Si è perso un cancia... Uh, un'arma. Vedo che ho messo ultraviolenza, ma minchia. Vedo che ho messo...